Ci arrivo al tema, eh? Ci arrivo al tema perché vedi, quando noi parliamo di sovranità il tema non è solo un problema risorgimentale, diciamo così, da toni risorgimentali, io sono particolarmente appassionata della materia come si sa, sono temi estremamente concreti perché quella povertà della quale tu parli è figlia di scelte politiche evidenti che sono state fatte in questi anni. E' vero che c'è la crisi economica, ma da chi è stata prodotta la crisi economica se non dagli stessi che oggi hanno la presunzione di dirci come si affronta e si risolve la crisi economica? Da chi è stata prodotta la crisi che sta portando la povertà nella quale noi rischiamo di far cadere sempre più famiglie? Voglio dire, parliamoci chiaro, quando le banche prendono i soldi a un tasso di interesse l'1% dalla banca centrale europea e con quei soldi ci comprano titoli di Stato a un tasso di interesse molto più alto, lo vogliamo spiegare a Renzi che dice di no, non stanno producendo ricchezza, quella non è ricchezza, la ricchezza virtuale non è ricchezza. Quando tu hai realtà che in regime di monopolio prendono una concessione statale e non investono una lira, quelle realtà non producono ricchezza. Quando tu vendi un'azienda gioiello italiana a una multinazionale straniera che viene qui, la spolpa, si frega i brevetti e poi la butta, quella non è ricchezza. La ricchezza è un'altra cosa, la ricchezza in Italia è prodotta dalla piccola e media impresa, è prodotta dall'agricoltura, è prodotta dai commercianti, è prodotta dalle persone, dalle cose, dai fatti materiali e tutto questo i governi che noi abbiamo avuto negli ultimi anni hanno fatto del loro meglio per massacrarlo.